Ma secondo voi è presto se ci tento io con la Michelle? Ma no, è single, è sulla piazza. Ha appena rifiutato Gerry Scotti che ha cercato di mettere la lingua. Ma dite che si mette con un altro della moda come me. Ma piantela, vieni qua. Ah sì, scusa, scusa. Lei è la moda, vi mette su due pietri diversi. Rette parallele si chiamano. Allora, dov'è che vuole arrivare? Non hai mai lavorato con la jalapas? Mai, mai, è la prima volta che... Ma com'è possibile che in tutti questi anni non ci siamo mai incrociati noi? È veramente incredibile. Ma dovresti essere contenta. Ma dovresti essere contenta. Perché? Perché io ci ho lavorato una vita e adesso mi risulta la fedina penale sporca, capito? Non posso fare una domanda per lavorare che sono all'amministrazione pubblica. Non mi danno il portodarmi, non mi danno il mutuo, non posso guidare mezzi pesanti. È un disastro. E' colpa nostra. Io sono molto curiosa dove volete andare a parare. Non posso parlare di nessuna parte, però... Anch'io sono curioso. Se vuoi... Hai anche una cartella. Una cartella con la scritta, guarda, mai dire Michelle. Mai dire Michelle. Roba! Michelle. Un'altra cosa volevo dirti. E... Che stavo dicendo... Non ti ricordi. Non ti ricordo. Non ho uno scoop. C'ho uno scoop. Ti stavo dicendo che c'ho lo scoop. Che scopo? Me lo porto praticamente. Sui jalapi. Ma va? Perché una volta c'erano... No, su di noi. Su di voi. Perché una volta eravate solo voi famosi come voce fuoricampo. Giuseppe, adesso invece ci sono altre voci, altrettanto famose. E i due jalapi si sono fidanzati con due voci famose. E quali voci? Sì. Giorgio sta con Siri e Marco con Alexa. Sì. Sì.